Grazie per la visione! L'intervallo della gara, Vodra Red Bull contro Red Davis, 1-0 per Red Davis, andiamo a intervistare i giocatori della partita. Sani, il cognome? Busco 1-0, ho stato giocato abbastanza bene con i passaggi di prime azioni, cosa dici? L'ultima partita, mi spaventano da fastidio, sono una decisione per noi, siamo comandati a iniziare la partita, deve stare solo da un'altra partita. Va bene, a Bocca l'uomo per la ripresa, andiamo da Vodra Red Bull, sono un po' nervosi, Pellerino, Pellerino! Ok, ma che ce l'hai ragione? Ok, ce l'hai ragione tu come ce l'ha facendo qui? Sei il più calmo, diciamo 1-0, prima di 5 minuti avete giocato bene, però poi dopo vi siete un po' chiusi in difesa, in attacco, non l'avete fatto neanche. La squadra è molto confusa, dobbiamo fare un po' di chiarezza di idee, sia in attacco che in difesa, un centrocampo un po' troppo scoperto, anche in centrocampo. Cosa ci vuole in più nel secondo tempo? Un po' di attacco, un po' di attacco, un po' di attacco. Un po' di attacco, va bene, Bocca l'uomo. Da Kennedy siamo qui con i Grigotti, migliore in campo della gara Vodra Red Bull contro Red Davis, finita 3-1 per quest'ultimi, consegniamo la medaglia e anche il buono sconto, complimenti del nostro partner. Il buono sconto poi dopo ti spiego cosa vale. Grigotti, partita ci ha avuto bene da parte vostra, avete diciamo com'è andato a tratti di voi? Abbiamo meritato questa partita, comunque abbiamo ci ha avuto bene. E' una squadra tosta a loro, però tecnicamente forse è un po' di attacco, però tecnicamente è un po' di attacco. Adesso semifinale, venerdì contro i Grandi Scigli, una squadra tosta. Cosa ti aspetta? Niente di che, dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere, va bene, vuoi fare una dedica particolare per la medaglia? Sì, lo dedico grazie per la medaglia. La dedica alla squadra? No, ma, tutta la squadra è buono sconto qua. Va bene, complimenti alla Cossa. Grazie. Grazie.